Ciao, ti ricordiamo di iscriverti e mettere un bel mi piace al video, per noi è importante, grazie e buona visione. Persiste l'attenzione nei confronti della presunta situazione difficile tra Bolain Rodriguez e Stefano De Martino, alimentata dalle sfumature e dagli indizi che i fan della celebre showgirl scovano ovunque. Questo strano gioco ha iniziato a prendere forma con frecciatine che sembravano alludere ai presunti tradimenti del compagno, e che ora si sono manifestate sotto forma di segnare segnali enigmatici. Le recenti dinamiche sembrano tanto una rappresentazione di segnali nascosti quanto una dichiarazione aperta. L'attenzione dei fan è stata catturata da un'immagine con i nipotini di Belen, con Santiago che indossa una maglietta della nazionale argentina. Ciò che ha sorpreso è il cognome stampato sulla maglia, Rodriguez invece di De Martino. Questo piccolo dettaglio ha scatenato speculazioni riguardo a una possibile rottura tra i due. Tuttavia, le certezze sono poche. Attualmente Stefano e Belen sembrano vivere in completa separazione. C'è da aggiungere che da tempo lui non indossa più la fede nuziale. Un segno ulteriore di distacco. In ogni caso, nonostante l'attenzione e gli indizi che puntano verso una fine della loro unione, nessuno dei due ha confermato o smentito la rottura in maniera ufficiale. Ecco perché c'è chi ipotizza che la crisi sia stata forse orchestrata deliberatamente, forse per rimanere in primo piano nell'attenzione del pubblico. Soprattutto in un momento che potrebbe essere cruciale dal punto di vista lavorativo per entrambi. Stefano De Martino non sembra ancora avere un chiaro destino televisivo davanti a sé. Mentre Belen Rodriguez è stata recentemente assente dai programmi di Mediaset, se è stata lei a fare questa scelta o se è stata esclusa, è ancora un mistero. Lascia la tua opinione nei commenti, iscriviti e metti un bel mi piace al video, per noi è importante. Grazie, ci vediamo nel prossimo video.